In questi due giorni grande mobilitazione della Lega in Lombardia per sostenere i sei quesiti referendari. Una giustizia più giusta, chi sbaglia paga. Domani saranno oltre 500 in gazebo presenti nelle piazze lombarde. Ci sarà una mobilitazione degli esponenti della Lega, 2000 consiglieri comunali, piuttosto di 233 sindaci, ancora 600 assessori, 28 consiglieri regionali che da quest'anno potranno autenticare le firme, ma ancora 40 deputati e 20 senatori. Mega zero tra la gente per ascoltare come fa sempre la Lega, ma soprattutto per autenticare queste firme. Una battaglia di civiltà. Quindi, grande mobilitazione della Lega, tutti impegnati e aspettiamo tantissimi cittadini, tantissimi lombarde su tutti i sei.